60 milioni di euro certi immediatamente spendibili per le infrastrutture di Capitanata, altri 30 legate all'erogazione dei fondi da parte della Regione Puglia nell'ambito del pieno di viabilità a strada facendo ma ancora bloccati nonostante Palazzo Dogana abbia provveduto ad approvare con 7 mesi di anticipo tutti i progetti esecutivi ammessi a finanziamento, di cui l'appello al centro-sinistra provinciale a lavorare in sinergia per il bene del territorio spingendo presso Via Capruzzi. L'assessore provinciale ai lavori pubblici Domenico Farine è soddisfatto e con lui l'intera maggioranza di Palazzo Dogana, il piano triennale delle opere pubbliche comincia a diventare realtà, quantomeno nella parte relativa ai fondi di bilancio e nazionali. Non accadeva da anni che venisse presentato al territorio in tutti i suoi punti salienti. 524 milioni di euro di investimenti complessivi, la stragrande maggioranza legati al libro dei sogni ormai di aria vasta, ma 110 fattibili di questi 60 immediatamente spendibili in attesa che Via Capruzzi faccia la sua parte. 6 milioni per palestre moderne da redi scolastici, 55 per la manutenzione stradale. Abbiamo puntato sulle nostre competenze essenziali, ha spiegato Farina, strade sicure e percorribili significano sviluppo della nostra industria culturale e turistica, di cui l'investimento ad esempio per ammodernare la strada che da Monte Sant'Angelo porta all'abbazia di Pulsano, a maggior ragione oggi dopo il riconoscimento unesco alla cittadina dell'Arcangelo Michele e ancora la stretta collaborazione con il mondo della scuola, con il Via Libera, la prima sperimentazione di orto botanico nel sud Italia, presso l'Istituto Agrario di Cerignola, pratica ad oggi diffusa solo al nord. È la nota di merito, la rivoluzione operata nel settore lavori pubblici con l'abbassamento della soglia per indire bandi di gara, superando così la logica del cottimo fiduciario che diventa una scelta di trasparenza, ha sottolineato l'assessore, ma anche un modo per allargare le possibilità di lavoro per le imprese. Nei prossimi giorni intanto un nuovo incontro con i sindaci di Capitanata per lo sblocco dei primi 15 milioni di fondi regionali necessari per dare il via ai lavori. Almeno 5 chilometri della strada provinciale 130 che collega Alberona al resto della Capitanata sono interessati da movimenti franosi. Dieci voraggini, sette grandi frane negli ultimi 4.500 metri di strada prima di arrivare nel centro abitato, più di 20 cartelli stradali a indicare i pericoli disseminati lungo questo tratto particolarmente dissestato della provinciale. Una situazione di chiara emergenza, Tonino Fucci, sindaco di Alberona, ha inviato lettere indirizzate agli assessorati e agli uffici competenti della provincia di Foggia, della regione Puglia e della prefettura per denunciare il rischio gravissimo che incombe su quanti percorrono quella strada. Non sono soltanto le frane a destare preoccupazione. Lungo i 23 chilometri complessivi che dividono Lucera da Alberona e nei successivi 8 che separano il borgo alberonese da Roseto Valfortore, in moltissimi punti il manto stradale è scomparso per lasciare il posto alla breccia o a profonde fratture che attraversano la carreggiata, tutto ovviamente senza segnaletica luminosa. Siamo tornati a segnalare le condizioni di pericolo che incombono su chi percorre la provinciale 130, ha detto Fucci, e siamo pronti a intraprendere qualunque altra iniziativa necessaria per riportare l'attenzione delle istituzioni competenti sui disagi e i rischi che lo stato di questa strada causa a quanti la percorrono. Il ripristino di condizioni di sicurezza per la 130 è una delle priorità indicate nel programma politico amministrativo della Giunta Fucci che si è insediata lo scorso 31 maggio.